a rientrata, perché comunque c'erano militanti e nel PD sono anche bei militanti di sinistra e quando a Roma specialmente ci sono decontestazioni del genere non le accettiamo, anche se Renzi comunque ha detto a stare cambie, non ci sono problemi, a Roma non si possono fare, perché è un'oltaggio a tutti noi, si può manifestare ma non così. Per il resto Max, bell'intervento, l'intervento mi è piaciuto anche di Cosentino, del segretario romano e Renzi devo dire che ha vinto la sua sfida, perché comunque ritornare in piazza dopo tanto tempo potrebbe essere un rischio, potrebbe essere un rischio per tutto il PD di Morati, l'ha vinta, l'ha stravinta e sono contento così, in bocca al lupo a tutti per domenica. Bene, bene, ringraziamo l'intervento di Riccardo Bagnarelli, allora Davide, io direi che tra un po' comincia la prima puntata, dopo di noi, di La Voce dal quarto, poi tu dalla Rustica che cosa ci trasmetti questa sera? Ci sarà The Club, un programma incentrato su una musica un po' particolare, che deve piacere, una musica da discoteca, a me non fa impazzire, però era giusto dare anche uno spazio a questa musica da discoteca. Esattamente, e noi domani dalle 16, 16 e 30 abbiamo notizie e approfondimenti e parliamo anche di queste elezioni europee che poi ci porteranno allo speciale di domenica. Ti ripetiamo, a Roma hanno un'importanza particolare perché a mio avviso, questo è il mio pensiero, è legato tutta quanta, la vittoria del PD è legata comunque alla vita del sindaco Marino, questo è il mio pensiero. Esattamente, perfetto, perfetto, perfetto. Bene, allora noi salutiamo i nostri radioascoltatori, tra un po' partirà sempre condotta da me La Voce del quarto, con Niccolò Corrado, il presidente della Commissione Ambiente del quarto municipio, nonché consigliere del partito democratico. Buonasera a tutti. Buonasera. A chi? A tutti e a tutti. A tutte e a tutti. Già stavo a casa. E chiudiamo con quello che abbiamo aperto, Neffa cambierà. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna non è sede triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa anche la verità, ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo cambierà, finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono, lampi all'orizzonte però, nei tuoi occhi io mi salverò. Già si sentono, vuoi aprire il cielo però, grida forte e sai che correrò. ora mi senti e ti sento, siamo una sola anima, e celebriamo il momento ed il tempo che verrà. Se chi decide ha deciso, che ora la guerra è la necessità, io stringo i pugni e mi dico che tutto cambierà, cambierà, per ogni vita che nasce, cambierà, per ogni albero che fiorirà, cambierà, per ogni cosa del mondo, cambierà, finché il mondo girerà, cambierà, già si vedono, lampi all'orizzonte però, nei tuoi occhi io mi salverò. già si sentono, vuoi aprire il cielo però, grida forte e sai che correrò. tutto cambierà, 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 tutto cambierà, cambierà, vedrai che cambierà. Tu cambierà, vedrai che cambierà, tutto cambierà, vedrai che cambierà, tutto cambierà. Tu cambierà, tutto cambierà...